libera il nostro giocatore, le riprese stanno assumendo qualche difficoltà visto la temperatura fredda della mia mano, il naso freddo e anche i piedi ragazzi se potete fare qualcosa in questo momento siete bello al caldo, con una bella tazza di tè caldo, con una bella tisana con cose sane, io sono freddo per voi, attenzione, bella l'azione sulla destra, bravo, bravo, mercadante 3 a 1, gol di Galeb, bravo, in collaborazione con l'Aicomo che ha fatto una grande percussione